Buongiorno a tutti, ho molto bocca da dire ma voglio portare il mio saluto della comunità, tutti presenti al Presidente e volontari presenti a Forestas. Il viadone è quello che voi vedete, un territorio immenso, bello, verdeggiante, con una storia ricca nel passato, ma anche nel presente deve, cercando di decolare, per rendere efficiente quello che abbiamo, le ricchezze ci sono, ma anche le possibilità, quindi il desiderio è che tutto questo continui anche con queste piccole iniziative che fanno capire quanto la voglia di crescere è in tutti noi, quindi benvenuti e buon lavoro.